Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti ad Automoto.it e benvenuto a un nuovo brand per la prima volta qua con noi, ovvero Toyo Tires che ci ha sempre incuriosito ma non abbiamo mai avuto la fortuna di analizzare i loro prodotti nel dettaglio e finalmente ci siamo riusciti tra l'altro con il Proxis Sport 2, pneumatico pensato per vetture ad alte prestazioni e con coppia elevata. Allora per chi non conoscesse il brand Toyo Tires, brand giapponese con anche sede in Serbia dove tra l'altro c'è anche una bellissima area di test così ci hanno detto i ragazzi di Toyo e tra l'altro spero prossimamente di provare il prodotto perché oggi lo analizziamo soltanto staticamente per farvi capire se può fare il caso vostro e poi spero in futuro di andare a visitare anche questa area di test provando i loro prodotti ma non dilunghiamoci oltre e andiamo a capire di cosa si tratta, di cos'è il Proxis Sport 2. Intanto è un prodotto pensato per i segmenti D, E e F con sezioni da 215 a 305 e con callettamenti dal 18 al 22 quindi già questo ci fa capire che è sicuramente pensato per vetture o anche SUV ad altre prestazioni. Capiamo poi cos'è, riassumiamolo in una parola, è un pneumatico premium asimmetrico bimescolo ma poi andremo ad analizzarlo nei dettagli e capiamo bene come è fatto e poi cosa promette così vediamo come riuscirà poi a mantenere le promesse, aderenza massima con l'asciutto e il bagnato e anche stabilità quindi questi sono i due punti di forza almeno così promette Toyo Tires per il Proxis Sport 2 e andiamo a vedere come è riuscito ad ottenere tutto questo. Allora ovviamente sfruttando le tre caratteristiche principali di un pneumatico ovvero scultura, mescola e struttura adesso andiamo ad analizzarle nello specifico. Allora scultura abbiamo i cordoni asimmetrici, ovviamente i cordoni sono le parti che vanno a strutturare il battistrada adesso vi ho rappresentato il battistrada così in modo schematico, tra l'altro mettendo dei numeretti che ci permetteranno di capire un po' meglio di cosa stiamo parlando. Allora cordoni asimmetrici, ho messo l'1 perché poi ci spostiamo nella parte più bassa perché all'interno dei cordoni asimmetrici abbiamo più aspetti da analizzare. Intanto il bordo scanalato che è sostanzialmente questo, guardate ve l'ho messo qua con l'1 e sono queste scanalature che si trovano sulla parte interna perché questa è la parte interna, lo vedete questa è la parte esterna, quindi queste piccole scanalature che vi ho disegnato in blu ecco questi bordi scanalati permettono di avere più trazione ma anche una maggior performance in frenata. Poi il cordone esterno ad alta rigidità quindi tutta questa parte è differenziata rispetto alla parte più interna perché poi lo vedremo anche nel discorso della mescola, ecco questo cordone esterno è molto più rigido rispetto all'interno quindi maggior appoggio in curve ad alta velocità. Poi canale a profondità ridotta e lo vediamo qua, 1A, quindi guardando la parte esterna del pneumatico vediamo la scanalatura che è un po' più bassa rispetto alle alte. tradotto abbiamo un maggior handling sia sull'asciutto e sia sul bagnato, quindi canale a profondità ridotta, 1A ricordiamolo lo vedete qua e questo in verde ci permette di avere un maggior handling. Addentriamoci poi sempre nella scultura, cosa abbiamo? Gli intagli con il cono dinamico, gli intagli sono quelli che vi ho disegnato in rosso ecco gli intagli, tra l'altro andiamo a riprenderli poi nella parte più bassa, gli intagli a cono dinamico sono davvero una novità perché guardate questa è la sezione di un intaglio canonico, ecco la sezione del battistrada sostanzialmente si deforma, si schiaccia e quindi andiamo a perdere il contatto con l'asfalto che adesso ve lo disegno in giallo è sostanzialmente questo mentre con il nuovo intaglio toio che vedete è sostanzialmente una sezione leggermente diversa con il bordino quindi con l'angolo non retto ma leggermente tagliato mi permette di avere una minore deformazione e quindi un maggior contatto, vedete meno rosso rispetto a questo, un maggior contatto con l'asfalto. per quanto riguarda la mescola quindi secondo capitolo mescola, bimescola, l'avevamo già detto all'inizio della nostra chiacchierata cosa abbiamo? l'interno quindi questa parte qua sostanzialmente con una mescola molto più flessibile che ci permette di avere grande aderenza sull'asciutto e sul bagnato mentre la mescola esterna è diciamo tra virgolette più rigida e quindi questo mi garantisce maggiore stabilità alle alte velocità quindi soprattutto in curva dove ho tanto appoggio laterale insomma davvero complesso e guardate quante cose ci sono da sapere quando si va ad analizzare un pneumatico ma sicuramente molto interessante struttura, cosa vediamo? un profilo del fianco con una curva meno accentuata rispetto al Toyo Proxy Sport A che è sostanzialmente il predecessore questo a mio parere non l'hanno specificato ma si può tradurre in un maggior supporto nelle curve quindi anche in questo caso quando vado ad appoggiare quindi vado a dare carico sulla spalla avendo una curva meno accentuata del profilo del pneumatico mi sostiene di più e tra l'altro ecco rispetto al Proxy Sport A lo vediamo anche sulla nostra schermata il Toyo Sport A rispetto al 2 aveva più tensioni e lo vediamo vedete rispetto alle tensioni durante il doppio cambio di corsia vedete questo è il Proxy Sport A e questo è il Sport 2 vedete che le zone rosse in questo caso vedete qua e qua sono sicuramente minori quindi grazie agli sensori che erano posizionati sulla macchina e alle fotocamere abbiamo questi rilevamenti e vediamo minori tensioni appunto sullo Sport 2 rispetto allo Sport A poi cintura, tela zero e di sommità ad alta rigidità quindi grande struttura questo si vede anche su alcuni prodotti della concorrenza però insomma va sicuramente detto ecco diciamo che questo è nel complesso il nostro Proxy Sport 2 un prodotto che dicevamo si indirizza alle vetture ad alte prestazioni con tanta coppia insomma speriamo presto poi di provarlo sul campo come ci siamo detti all'inizio ovviamente poi parliamo di prodotti si va a cadere anche sul prezzo sono sicuro che siete curiosi di sapere bene o male qual è il range lo sappiamo benissimo che i listini di pneumatici poi a volte lasciano un po' il tempo che trovano perché dai gommisti i prezzi che si trovano sono davvero molto diversi ovviamente verso il basso però insomma almeno ci facciamo un'idea i prezzi per il Proxy Sport 2 partono da 95 euro e arrivano a 265 euro più IVA così avete insomma un po' un metro di paragone ho praticamente concluso però come sempre prima dei saluti ufficiali vi ricordo di andare a visitare i canali social dell'azienda che ci ha permesso di essere qui quest'oggi ma anche il loro sito che appare pressa poco qua e poi ovviamente continuate a seguire i nostri di canali social se avete le domande di dubbi scrivete automoto.it Maurizio Vettor Power ci fate la domanda e noi vi rispondiamo io vi saluto e vi lascio ai nuovi contenuti sempre ricchi nel nostro canale